ciao ragazzi buonasera a tutti oggi è 30 dicembre e visto che a casa mi stavo un pochino scocciando e non ero mai andato a vedere il mercato dei fish ho detto ma perché non andiamo a fare un bel giretto e poi tolto la telecamera così faccio anche qualche bella ripresa e qui adesso stiamo andando ok ok queste capate notturne penso che la direzione siamo soli visto che conosco bene allora siamo quasi arrivati lo percepisco dal casino guardate qua mi sa che trovare un posto sarà una bell'impresa ok amici sonoci a trovare un posto adesso scendiamo e andiamo a vedere un pochino la situazione non lo so perché sono venuto però ho voluto venire quindi andiamo ok sto facendo la strada per arrivare al mercato nel frattempo in sottofondo inizio già a sentire i primi tuoni i primi rombi e domani sentiremo meglio a capodanno c'ho visto praticamente ha trovato un posto rinda la post forse sono nel punto giusto si ma arrivato un mercato l'upea usci ecco qua a bell'upea usci Così non hai venuto a fare su quello che c'hai felice rigida, scaurato con le mani, E' un bec da manacchino Non mangiare i muri, io devo dire che c'è molto più stabile E' la cerchina però Perchè se ci vuoi dei fiori Guarda Un mazzone che è portato a questi cucchiaini da suzzi C'è la mangiare a mangiare al forno o scalpare D'alba 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 Siamo già andando putzvano, tu cammo veste, ci fai da nemmar. Versa tutta l'acqua e pesce a tutti i pazzi, qua sta tutta la zona del pesce, poi se per caso si è dimenticato di prendere le olive, è venuto a Udizio a vigliare la vattacquattina. La visita è finita, chi ha mai visto un ragazzo con la telecamera in mano che se ne va per il mercato ittico così come questa gente che ha da solo tutto uffa ragazzi, qui c'è una roba da manià. Ragazzi noi siamo proprio a Napoli ma siamo a Pozzuoli quindi questa cadenza così è normale, non vi preoccupate. Spero di arrivare alla macchinina, spero ci sia una macchinina, speriamo che ci sia una multa sulla macchinina. Adesso torniamo a casa ragazzi, ci riposiamo perché domani è il 31 dicembre, ci sarà il veglione, ci saranno tante cose. C'è il 3 d'anno passato quindi io vado, cerco da un parcheggio sperando che non ci sia un parcheggio troppo abusivo e che nemmeno spicci la ventiepre in mano, non la posso dare. Vorrei uscire qua giusto, ecco mi stanno proprio lampeggiando. guardate il bordello della gente che ha preso il pesce e torna a casa. Ok ragazzi sono arrivato, noi ci vediamo al prossimo video. Volevo augurarvi buon appetito ma visto che questo video è uscito molto dopo, cioè molto qualche giorno dopo, non assolutamente sentito. La cintura, spegniamo la luce e buonanotte.